Buon pomeriggio e benvenuti a Dmingiam, il piacere della scoperta. Oggi ci addentreremo nei meandri delle vespe. Cosa sono le vespe? Quando e come sono nate? Come combattono? Scopriamolo insieme. Le vespe possono essere di varie dimensioni e cilindrate, ma sono famose soprattutto per il loro temibile pungiglione, che è caratteristico per la sua grandezza. Le vespe sono una specie angusta, incomprensibile, catarifrangente, lussuriosa, come testimonia il paesaggio alle nostre spalle. E immaginate allora come deve essere trovarsi dinanzi a un esercito di vespe e quali possano essere i pensieri, le emozioni, le paure dei nostri eroi in quei momenti, ma non si sono arresi. Come avete potuto vedere, infatti, nessuno si è tirato indietro nella battaglia finale, eccetto quel cagasotto di lollo, ovviamente. E quindi abbiamo capito che le vespe possono essere imprevedibili, talvolta pungenti, ma abbiamo anche capito, potremmo batterle.